Alla fine del ventesimo secolo, in una terra sconvolta dalle esplosioni atomiche, i sopravvissuti alla distruzione si dividono in vinti e vincitori. Sulle tracce dell'amata Giulia, Kenshiro affronta un mondo di inaudita violenza, dove un fratello non è sempre un amico fedele, ma un nemico da abbattere senza pietà. Ken il guerriero, il film. Prodotto in Giappone nel 1986 e inizialmente destinato in Italia solo al mercato del home video, Ken il guerriero, il film, è il primo storico lungometraggio che ripercorre parte delle vicende che coinvolgono il giovane Kenshiro, erede dell'arcano e misterioso potere, tramandato dalle antiche tecniche della scuola di Okuto. Con una grafica, un doppiaggio e una regia completamente nuovi, questo film offre allo spettatore un diverso modo di approcciare una storia che si sviluppa altrimenti in un centinaio di puntate. Affascinati dallo scenario post-atomico, affezionati ai personaggi che abbiamo seguito e apprezzato lungo il dipanarsi della serie TV, non restiamo sicuramente delusi da un'opera che, pur mantenendo quei tratti fondamentali che tutti conosciamo, si riserva di sorprenderci con alcuni dettagli non trascurabili, apparendo, per questo, mai scontata. Animati dal loro forte desiderio di vendetta e giustizia, i protagonisti di questa storia ci raccontano il mondo come potrebbe essere in un futuro non troppo lontano e ci conducono per mano verso la risposta a tutte le nostre domande, la speranza. Grazie per la visione!